E' divertente perché quando era il 2017 eravamo a Silicon Valley Virtual Reality, eravamo noi, Oculus, HTC, un paio di altre aziende e basta. Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato. Oggi ho il piacere di avere in studio Eric Bezzoli. Benvenuto Eric. Grazie di avermi invitato. Allora, un paio di punti così per presentarti sul tuo curriculum. Laurea in Fisica, dottorato in Aptics, crei la startup GoTouch VR nel 2016, crei InterAptics che diventa uno standard dell'industria, entrambi venduti a Razer. Attualmente sei director a Razer, uno dei leader mondiali di hardware per gaming, membro dell'Aptics Industry Forum, una ventina di paper tecnici, una decina di brevetti, coautore del libro HR Aptics, fondatore del podcast Aptics Club. Allora, io dal curriculum capisco due cose. Ti piace Aptics e sembra che tu sappia quello che stai facendo. Allora, per prima cosa utilizzerò come motivational morning questa registrazione, quando tutto va male, così ti pompi. No, veramente sono rimasto impressionato. Spieghiamo, cos'è Aptics? Partiamo da questo. Esatto, ok, cos'è Aptics? Aptics è la simulazione del senso del tatto digitale. Un altro modo di dirla è quando i dispositivi ti possono toccare. Può essere mal interpretato, ma è semplicemente le vibrazioni del tuo telefono, le vibrazioni della PlayStation, le vibrazioni dei sex toys anche. Tutto quello, tutto quando... Anche quello... Sì, quello è ancora Aptics. È tutto quello che quando un device tecnologico può andare a lavorare sul senso del tatto, si definisce Aptics. Ok, quindi diciamo dei cinque sensi Aptics, quando si parla di Aptics si riferisce al senso del tatto, o va oltre? Allora, ottima domanda, non è tanto chiaro nel risparmio degli esperti, ognuno cerca di usare il proprio aree. Diciamo che l'Aptics solitamente viene incorporata nel senso del tatto, quindi quello che sente il tocco, il senso della forza, quello che si chiama la flessione dei tendini e la temperatura. Più o meno questi tre sono quelli che più o meno storicamente vengono identificati all'interno della tecnologia Aptics. Quindi tocco, temperatura e forza. Ok, chiarissimo. Dispositivi, diciamo, che vediamo tutti i giorni. Hai detto, per esempio, banalmente il joystick della Play, il DualShock che fa la vibrazione o il cellulare che vibra. Esatto. Queste sono tecnologie Aptics. Sì, sì, anche lo smartwatch, tra i migliori dispositivi Aptics che ci sono, sono lo smartwatch, l'Apple Watch, che, non so se vi rendete conto se l'avete, dopo un po' che l'utilizzi capisci che tipo di notifica hai dal tipo di feedback Aptics. È molto semplice, si impara molto velocemente. Smartwatch, è ragionevole pensare che una persona abbia almeno due dispositivi Aptics su se stesso, se si considera uno smartwatch, tutto il giorno. Ok, perfetto. Come hai iniziato? Cioè, da dove viene questa passione? Divertente, ottima domanda. È stato un po' come tutte le storie, è stato un po' di caso, un po' di fortuna e un po' di voglia di cambiare. Insomma, ho fatto un master in ingegneria fisica al Politecnico di Milano, che ho passato sei mesi a Grenoble all'acceleratore di particelle a preparare l'esperimento. E dopo sei mesi, ho preparato questo esperimento, tutto bello, tutto funziona, arrivo a fare l'esperimento, il flusso di elettroni non è stabile, quindi l'esperimento non è impossibile da fare. È un po' frustrante dire poco, perché è assolutamente fuori dal tuo controllo, non puoi farci niente. Quindi alla fine, con Tico, sembra che hai buttato nel cestino sei mesi, giusto? E per ridere, Santomas dice, se lo puoi toccare, è vero, giusto? E ho detto, la prossima volta voglio fare qualcosa che posso toccare, qualcosa su cui posso lavorarci io con le mie proprie mani. Poi essendo musicista anche, ho sempre questo rapporto con lo strumento della musica, che è molto tattile. E cercando, era il 2013, quindi piccola la crisi italiana, che era un casino trovare lavoro, cioè un lavoro interessante. È meglio continuare a studiare, continuare a prepararsi. E ho trovato questa tesi di dottorato in un progetto europeo che si chiamava Prototouch, specificatamente sul senso del tatto, e c'era tutta una parte di modellizzazione fisica. E a quel punto ho deciso di prendere e fare armi e bagagli e andare al nord della Francia, a Lille, in questo laboratorio, per fare una tesi di dottorato in aptX. Quindi modellizzazione fisica, che poi si è evoluta verso la parte molto più dispositivi, tecnologia, molto più libertà. E diciamo, quando hai visto il bando, quando hai letto, cioè, sapevi cos'era aptX? Sapevi che conoscevi questa parola? No, assolutamente niente. Sono sceso nel rabbit hole, come si dice. Sì. Oh, questa cosa è molto interessante. Poi essendo io una persona, diciamo, molto tattile, come si dice. E poi essendo musicista, quindi fai un suonato pianoforte e anche la chitarra, per tanto tempo. Capisci quanto questa cosa poi è fondamentale in questo tipo di interazioni. È forse una cosa abbastanza interessante. E poi effettivamente la tesi di dottorato era scritta in un modo in cui ci fosse una tecnologia rivoluzionaria per gli smartphone. E quindi c'è anche un potenziale sviluppo. Quindi qua siamo negli anni 2013, 14, 15. È cambiato il mondo di oggi rispetto a quegli anni? Quali sono le differenze principali? Cambia ogni 6 mesi. Scusami, il mondo nel... Con l'aptX. Sì, è cambiato tutto tre volte, due volte. Insomma, diciamo che negli ultimi dieci anni c'è stato l'avvento di quelle che si chiamano tecnologie aptX, alta definizione. Prima l'aptX era vibrazione, sì, vibrazione no. Quindi il mio telefono squilla, ho uno squilla. Non c'è capacità di controllare il feedback ed era molto informativo. Non c'era mai nessuna ricerca dell'esperienza utilizzatore, né una ricerca della finalità dell'utilizzo dell'aptX insieme ad altre modalità. C'era un po' la branca dei videogiochi in cui c'era PS PlayStation con DualShock, che è una vibrazione molto brutale, molto forte, che passa un'esperienza di non sono in controllo. Questo è stato creato per questo. E invece c'è stato questo dagli anni 2016, 15-16 in poi. Apple ha aperto un po' la strada tramite quello che si chiama il Taptic Engine, che è un motore a relativa alta definizione, che non solo vibra, ma può essere programmato. E può essere programmato in modo abbastanza avanzato. E questo ha messo in moto tutta una serie di cose. La ragione per cui questo motore è stato creato era per rimpiazzare il bottone della home button del telefono. Sì, che quando aveva un button è diventato un bottone e vibrava. E la ragione per cui è stato fatto è perché il principale punto di fail dell'iPhone era bottone. Ok? Il principale ragione per cui l'iPhone si spaccava era bottone. Quindi avevamo fatto di tutto per non avere un bottone. Però il feedback del bottone era necessario, quindi hanno dovuto fare tutta una ricerca all'interno delle tecnologie che fossero abbastanza rapide, non per fare vibrare il telefono, ma per fare la simulazione del bottone. Quindi Apple pioniere, diciamo, in questo mondo. Assolutamente. Sotto un profilo di user experience. Quindi aveva una tecnologia che poteva fare sia la vibrazione che il bottone. Quindi quale si parte da lì. Non un use case, due use case. E quello ha fatto creare quello che si chiama Taptic Engine e Ahab, che è Apple Haptic Audio Pattern, quello che si chiama il loro format, che fa in modo che si possa programmare questo tipo di motore in un modo abbastanza ragionevolmente semplice, ma che abbia delle capacità espressive abbastanza larghe. E quello ha cambiato tutto. Perché? Lo standard dei telefoni è non ci sono più bezel, quindi non ci sono più le bande sopra e sotto, non ci sono più bottoni. Se noti non c'è più nessun telefono che ha un bottone home. E per tutti i telefoni Android c'è stata la rivoluzione di passare dagli IRM, che erano i vecchi motori, quelli che facevano vibrare sì o no, molto forti, con pochissimo consumo di energia. E non è in realtà che un motorino con una massa eccentrica che gira e crei una forza eccentrica. Ti ricordi il 3310, non so se ce l'avevi, come se sul tapolo, quando vibrava si muoveva. Diciamo era un motorino piccolo con un carico, una zavorra attaccata, e siccome non è allineato perfettamente ti fa un po' di... Costava niente, consuma niente. E molto forte. Il problema è che non aveva quello start-up time, c'era molta inerzia. E quindi il clic, il bottone deve durare 10 millisecondi e non riesce a far girare questa massa di 10 millisecondi. Quindi questo è il problema tecnologico. Sto risolto con questi nuovi motori che si chiamano gli LRAI, che sono poi messi in tutti i telefoni. E questo è 2015, 2016, 2017, 2018. Che sono quelli i magneti permanenti? No, sono delle... Sì, una sorta di loudspeaker. Però con un Q-factor molto alto. Cosa vuol dire? Che c'è una frequenza di risonanza, ha un oscillatore armonico. È come se fosse un elastico con una massa. Tu lo muovi e questo ti dà indietro una forza. Però se lo muovi la frequenza di risonanza, devi dargli poca energia per avere tanta energia. E non c'è un elemento che ruota, diciamo. E non c'è un elemento che ruota, si muove linearmente in questo modo. Per inerzia si muove l'altro. Ok. Va bene. Questa è la prima rivoluzione. C'è stato questi nuovi motori che sono stati gli LRA. La seconda rivoluzione è stata portata da PlayStation 5. Con quello che si chiama il DualSense. Il DualSense è il loro controller. Che non utilizza gli LRA. Utilizza quelli che si chiamano i voice coil. Che sono dei sistemi di vibrazione a wideband. che non fanno una frequenza come l'LRA che faceva 220, 210 per varie ragioni. Ma partono dai 30 Hz, 20 Hz fino ai 500. Ne hai una sorta di loudspeaker come il suono. Però sulle frequenze per il tocco. Quindi per la prima volta due anni fa c'era un loudspeaker. C'è un sistema abbastanza alta definizione per cui non fosse solo click o vibrazione o vibrazione C. C'era una capacità espressiva abbastanza importante. E questo c'era già nei cellulari o è stato un'introduzione? No, non c'è ancora nei cellulari tra l'altro. Ok. Non c'è ancora nei cellulari. E qui parliamo del joystick della PlayStation 5? 5. Sì, sì, l'ultimo. Ok. L'ultimo è uscito. E ha avuto anche questo il nuovo sistema di force feedback sul grilletto. Sì, su DR1, DR2. Esatto, c'è il sistema di force feedback. Qui c'è stata una rivoluzione di PlayStation che ha portato due percezioni, sia la vibrazione alta definizione che la forza, con quattro attuatori in un dispositivo. In cui fino a poco fa ce ne fosse uno. E quello che ha cambiato veramente tutto è che questi nuovi attuatori costano molto di più di vecchi attuatori. Punto. Già non c'è, non c'è, non c'è, consumano molto di più. E c'è stata una rivoluzione sull'oporzione della BOM, quindi quanto costa il dispositivo stesso, di quanto, quanto questa parte di budget fosse rivolto all'Apex. E la PlayStation 5 ha moltiplicato per, non so, 20-30 al budget dell'Apex, forse di più. E quello che si dice anche con il gergo del real estate, quanto spazio utilizza l'Apex nel dispositivo. Praticamente il dispositivo da PlayStation, il 50% è Apex, dentro il dispositivo. Si parla di 50 milioni di unità. E come dire, la PlayStation punta forte sull'Apex. Forte. Se tu ci dedichi tanto tempo e c'è tanti soldi e tanto spazio, vuol dire che loro identificano nell'Apex un'opportunità enorme per la user experience, diciamo. Esatto. Tra l'altro, se guarda tutta la, tutta la campagna marketing di PlayStation 5, è tutta attorno all'Apex, è tutta attorno al DualSense, è tutta attorno a questa esperienza multisensoriale. E per capire, scusa, perché non ho provato la PlayStation 5, ho provato la variate ore alla 4, e cioè, diciamo, a livello proprio di giocatore, cosa accade, cioè la vibrazione, ci sono vari tipi di vibrazione, cioè mi riuscire a descriverla, non dal punto di vista tecnico, ma diciamo più... Allora, quello che posso raccontare è il DualSense, il trigger. Il trigger, quando cambi arma, ti cambia la sensazione. Una cosa. Quando cambi arma per sparare, ti cambia la sensazione. Quando c'hai la, per esempio, hai la... Il mirino? Le machine gun, come si chiama? La mitraglietta. La mitraglietta. Ti tieni schiacciato, questo si muove rapidamente per girarti. Cioè, tutta questa parte di user experience è molto più sviluppata, e per tutta la parte di vibrazione ha altre definizioni. Per esempio, quando vai forte o piano con le macchine, ti cambia tutta la tipologia di feedback che hai. Tipo di macchina, ti cambia il dispositivo. Se vai su un terreno accidentato rispetto a un terreno non accidentato, ti cambia il feedback. È molto simile a tutto ciò che vai a... Non so se avete mai provato le... Come si chiama? I volanti, quelli di Logitech o altri, che sono col force feedback. Quelli sono a bassa frequenza, però si avvicina a questo tipo di esperienza molto più multisensoriale. Quindi tu anche inconsciamente, diciamo, quando giochi e associi un tipo di vibrazione a un tipo di terreno, a un tipo di macchina... Esatto, diventa molto più immersiva. La cosa interessante è che questo è un concept. È un concept che poi può essere portato in tantissimi four-factor differenti. Per quello che dico ho cambiato tutto ancora una volta, perché questo concept di vibrazioni ad alta definizione viene a essere portato in tantissimi alti four-factor. Ti dà un esempio. Razer, dove lavoro ora, nel 2018, diciamo, 17, aveva già lanciato un paio di caschi audio con la vibrazione ad alta definizione all'interno. Quindi sono stati precursori di Sony. La differenza è che Sony è Sony. Quindi Sony, quando lancia il PS5, c'è un mercato che segue, un po' come Apple sulla parte dei gaming. Il valore per l'utilizzatore era già relativamente chiaro. Razer ha venduto parecchie centinaia di migliaia di questi caschi. Il problema non era... Quindi il valore era chiaro. Il punto è che Sony ci ha fatto la campagna di marketing. C'è stata una sorta di una fortissima educazione sul cliente finale, che ad oggi comincia a mettere, ad avere come differenziale d'acquisto il fatto che ci sia un'ottima aptX o meno. Quindi comincia ad entrare nei reviewer, comincia ad entrare nella ragione per cui qualcosa viene fatto o non fatto. C'è questa customer education che comincia a esserci. Interessante. E questo, per esempio, porta anche ai programmatori, agli sviluppatori dei giochi, immagino, orientarsi in un certo modo, no? Perché contro la tecnologia che ha il joystick, però poi alla fine gli input arriveranno dal videogioco, intendo, no? Esatto, ma quello è proprio il problema che io risolvo con Interaptics, che è l'azienda che ho venduto a Razer, che è questa roba qua. E noi abbiamo fatto una piattaforma di sviluppo per l'Aptics, specifica fatta solo per l'Aptics, con differenti tipi di attuatori, differenti tipi di sensazioni, facciamo il force feedback, facciamo altri. E ho sviluppato tutto lo stack tecnologico che consente di far risolvere uno dei problemi del nostro mercato, che è la verticalizzazione dei sistemi. Tutti i sistemi che sono in silo, quindi quello che sviluppi per PS5 non puoi utilizzarlo con Aptics non puoi utilizzarlo su iPhone, e mi ho sviluppato tutto un sistema di astrazione e di sviluppo no code per fare in modo che games in premise e altre soluzioni dopo possono integrare l'Aptics in modo molto semplice. Molto interessante. E tu hai detto, partendo dai games, dai giochi e poi eventualmente estendendo ad altre industrie, quindi, diciamo, al momento il primario utilizzo di Aptics è nell'industria dei videogiochi, ci sono già altre industrie che beneficiano di questa tecnologia? Sì. Allora, c'è l'entertainment, quindi l'Aptics Cinema, è in crescita da vent'anni a questa parte. Sono circa 1.600 sale, o circa 2.000 sale al mondo, equipaggiate con Seat, Aptics, su due aziende differenti, una è D-Box, l'altra è CJY, una è coreana, l'altra è canadese, e tutti i blockbuster, tutti i nuovi movie, tutti i Disney, quasi tutti quanti gli altri, hanno sempre una release su questi cinema, con una traccia Aptics. E questo è un mercato che è chiaro perché il cliente, io sono un cliente target, spende il doppio per andare al cinema con l'Aptics, secco. Perché porta ad avere un'esperienza che non puoi avere a casa. Quindi un po' c'hai l'audio, con tutto quello che è il Dolby, c'hai l'Imax e hai l'Aptics. E l'Aptics, cosa vuol dire? C'è il sedile che si muove, che si accelera, che vibra? Vibra, si muove, va avanti, indietro, si vibra. Quindi è lì, è anche incredibile come i differenti designer di Aptics interpretano l'esperienza in modo completamente diverso e si sente subito se sei un designer di alta qualità, come il sound, come l'immagine, o hai dei lavori fatti relativamente male. Quindi i blockbuster hanno i budget un po' più elevati e hai delle esperienze che sono eccezionali. dei movi un po' meno interessanti, alle volte devi schiacciare il bottone per ridurre il movimento perché stai male, diciamo. Quindi c'è... Non ci hanno speso molto tempo per affinare, diciamo, questa parte. Quella è la seconda industria. La terza industria che chiaramente sta utilizzando l'Aptics tantissimo è l'Automotive. tantissimo per tutta la parte di security perché sai come è di screen? Screen tattili nelle macchine. Il problema di screen tattili è che quando tu clicchi devi guardare se non c'è Aptics, devi guardare se hai confermato il click. Sì. Il problema vero è che questo porta a guardare due volte e quando stai andando a 130 all'ora... L'esperienza di quando guidi una Tesla e devi cambiare un'impostazione che sei lì che... C'è un problema di user experience da una parte e c'è un problema di feedback dell'altra. Quindi l'Aptics è stata introdotta... L'Aptics' altra definizione è stata introdotta soprattutto all'Automotive circa 2015 prima di gaming per fare in modo la simulazione del bottone fatta bene sullo schermo della macchina per fare in modo che c'è questo problema in security che se ne vada perché guardi una volta, clicchi, hai sentito, non devi riguardare. E poi c'è stata anche tutta l'implementazione dell'Aptics in tutta la sostituzione di bottoni. Porsche per esempio l'ha fatto tantissimo. Tutti i bottoni delle porte del volante per dare il feedback perché con il capacitivo, con il capacitance tu clicchi ma non sai che è cliccato. Il noise non vuoi averlo perché sei in macchina o non lo senti. Quindi devi avere un feedback aptico per sapere quando è cliccato il cattore capacitivo. Sì, sono un po' filosofie di pensiero differente però il mondo dell'Automotive sembra andare un po' in quella direzione, no? Yes. Sicuramente. Siamo da tuo punto di vista, quindi siamo abbastanza all'inizio ancora di questo tipo di industria? Ottima domanda. È un'industria che c'è da tantissimi anni. Tantissimi anni. La vera domanda è riuscirà mai a diventare un'industria che non è dominata dall'hardware, non è dominata dal contenuto? Questa è la vera domanda. Che non sia più dominata dall'hardware? Sì, che non sia il mercato, se guarda il mercato dell'Huptix, il 90% è il costo degli attuatori. Se guarda il mercato della musica, il 90% è il costo della musica, che è il contenuto. Non sono le cuffie che fanno il mercato della musica. L'Huptix è ancora che le cuffie fanno il mercato della musica, quindi c'è un problema di contenuto. Quindi la vera domanda è riuscirà mai l'Huptix a diventare un mercato tirato dal contenuto invece che tirato dall'hardware? In modo che ci sia quello che si chiama il content-driven market, che è una crescita esponenziale non lineare. Adesso l'Huptix è una crescita lineare. Tutti occupi di hardware e di software, no? Soprattutto software. Quindi la nostra grande scommessa è che dei mercati, qualche mercato specifico, si riesca a portare questo content-driven per tirare il business del content, dell'Huptix. E questi tre mercati per me sono il gaming, l'entertainment, quindi il cinema e la musica. Questi tre mercati. Molto interessante. Tu sei un fan del first principle, no? Sempre, sì, sì, sì. Sempre. Allora, dobbiamo applicare il first principle in questa cosa. Cioè, mi chiedete una cosa interessante. Adesso è un mercato guidato, il costo lo fa l'hardware. Questo tipicamente succede quando ancora non c'è molto sviluppo di software, no? Io sto pensando ad altre industrie. Effettivamente è così, cioè se andiamo alla base del problema. È perché non abbiamo ancora un hardware che ci dia la sensibilità che ci richieda per dare questo tipo di feedback al user? O è perché ancora non è stato inventato, ottimizzato un linguaggio per gestire, diciamo, per esempio gli ottuatori moderni? Cioè, domanda probabilmente molto difficile, però vedresti degli utilizzi molto più sofisticati con l'hardware di oggi? Ottima domanda, l'hardware su cui si può andare degli utilizzi differenti l'ha portato sul mercato PlayStation due anni fa, ok? Che è questi motori ad alta wideband. Questi sono i primi motori per cui vale la pena pensare di costruire un sistema di deployment che faccia in modo di avere tanti tipi di contenuto. Quindi il primo, poi il C che ne è il problema, il primo problema era non abbiamo l'attuatore. L'attuatore adesso c'è, costa pochi dollari. È stato sviluppato, i costi sono stati ammazzati verso il basto, che costava 10, 15, 20 dollari qualche anno fa. Adesso non costa praticamente, no, niente, ma con i volumi di Consumer Electronics diventa... E su un joystick quanti ce ne sono? Uno, due, quattro? Due, quattro, quattro ce ne sono. Ok. Questo è il primo. Quindi quello è... Ci cominciamo a essere, ci sono degli ottimi attuatori, c'è una guerra spietata tra gli attuatori di manufacturer per avere la migliore efficienza, la migliore performance, spietata. Quindi questo è ottimo. Due, e la expressivity è diventata un criterio di paragone, prima non lo era. Adesso la capacità di fare bene è diventata una grossa ragione, non solo il costo, ma anche far bene. E il secondo problema era la sistema di encoding, come tu lo dici, un sistema di programmazione dell'esperienza. E questo è sicuramente, è dipendente dal fatto che esistono gli attuatori funzioni, no? Ma il problema, è il vero problema che succede una volta che puoi fare, è come puoi far fare, giusto? È il vero problema. Quindi questi sono gli standard. E c'è... Adesso inizierà la guerra tra poco. Gli standard, perché c'è l'EMPEG che esce, che ne abbiamo fatto noi gli authorship. C'è l'IEEE che esce, dominato dai cinesi. L'EMPEG sono soprattutto francesi e americani. C'è il nostro, che è proprietario, che è molto simile all'EMPEG ma non lo è. E io farò di tutto per spingere il nostro, perché frega niente dell'EMPEG. Quando parli di standard, intendi... L'MP3, l'MP3 dell'Aptics, l'MP3 del... Scusami, è colpa mia. E l'MP3? L'MP3 ha dato il via alla musica digitale. Io ho scattato l'MP3. Perché la potevi scaricare a 2 mega. Siamo a livello di base. E questo che è impressionante. C'è un'industria che comunque è presente da, capisco, decenni probabilmente. Però, per esempio, diciamo che se gli standard normativi non sono ancora decisi, vuol dire che non si erano ancora arrivati al punto in cui ci fossero tanti interessi commerciali. Perché poi è lì che si stabiliscono gli standard. E adesso si cominciano a stabilire gli standard, quindi c'è un po' più di movimento. Perché quando fai lo standard puoi definire la value chain, perché puoi spaccare le cose a metà. Quindi adesso si sta lavorando. Poi c'è tanto, tanto, tanto è stato portato anche dal metaverse e dal metaverse, standard reality, virtual reality. Perché l'MP3 diventa praticamente fondamentale. Se ci fosse qualcuno interessato ad entrare e fare un'azienda nel 2023 in questa industria, tu che sei dentro da 10 anni circa, consiglieresti? Cioè, la vedi come un tipo di industria che farà un boom? È un'industria, secondo te, con delle barriere di ingresso molto elevate? Allora, è sempre stata un'industria in cui le aziende falliscono 10-20 volte a rete le altre aziende. Sempre stata un'industria difficile. Sì, guarda, ti posso assicurare che sì. Anche aziende che hanno ottenuto su 20-30 milioni di euro, 50 milioni di euro. Brucciati. Morte, fallite. Due o tre ancora quest'anno che non sono ancora fuori, non posso dire i nomi, però... Cioè, è un'azienda, si chiama, è un dominio molto complesso perché il sol, il capitale, il valore riconosciuto dal mercato è sempre stato un valore riconosciuto sull'hardware, quindi che è venduto all'unità, però per tu vendere il tuo hardware devi di sviluppare lo stack completo di tecnologia che era molto caro che non riuscivi mai a monetizzare. Quindi le tue marginalità sono sempre state negative perché devi supportare i costi, l'ingegneria, dello stack intero per non poter monetizzare. Il problema è che ti rendi conto solo dopo 5 anni. Quindi dopo 5 anni hai bruciato decine di miliardi di dollari, milioni di dollari. Ti trovi che qualcuno te lo può comprare un dollaro o due dollari di componente, però con centinaia di migliaia di unità a produrre, quindi c'è centinaia di migliaia di dollari di giro d'affari che non è niente. Se tu hai creato su 12 milioni, quindi è molto difficile tutto quell'aspetto. Però, però, quello che sta cambiando ora e questi standard sono il sviluppo. Quindi tu ti puoi concentrare su una parte della value chain, non tutta la value chain, non devi fare tutto. Non devi fare l'attuatore, il firmware, il software, l'encoding, il design, il sistema, l'SDK. Ti puoi andare a concentrare da una parte o da un'altra. E costruirai per i futuri 5 anni. Quindi il mio video è forse il momento giusto di iniziare una azienda di Naptics adesso. Essendo estremamente nimble, estremamente nimble, vuol dire che not self-funded, ma quasi, pochi, focalizzandoti su un punto della value chain molto preciso, risolvendo un problema molto preciso e facendo la scommessa che tu cresci col mercato. Questo mi porta a prossima domanda su come esattamente hai iniziato con GoTouch VR, cioè anche a livello un po' più operativo, di capitali, se posso chiederti. Sì, sì, sì. Come ti impiegati, cioè come ti sei organizzato, credo sia una parte molto interessante da ascoltare. Ok, questa è un po' più la parte di Entrepreneurship. Come tutte le parti di Entrepreneurship non ne ho mai una linea dritta, ok? È sempre un casino. È più vero per noi che per altri. Allora, ho finito il dottorato e ho sempre avuto una vena un po' impreditoriale. Io sono bergamasco, ci piace lavorare. A quel punto c'era, potevo diventare CTO di una startup Aptics che è ancora in vita, che utilizza la mia tecnologia del dottorato e che va in produzione adesso, finalmente dopo sette anni. Hanno passato anche loro di tutti i colleghi, tutti i colleghi, poveracci. Vabbè, sono associato con tre colleghi ricercatori, con cui eravamo in questo progetto e un business developer, come praticamente co-founder, per andare a fondamentalmente a scoprire quali fossero i problemi che ha lesse la pena risolvere. Chiamano un po' così. Però facendo credere ai miei investitori che avevo prodotto. Chiaro. Chiaro. Che avevo fatto un dispositivo, che era un dispositivino che va sul dito, che poteva poter toccare la realtà virtuale, racconti la favoletta, tiri su un paio di milioni. Quindi che dispositivo, ripeti e ripeti. Era una sorta di ditale che metti sul dito e quando, col casco di realtà virtuale, nel 2016, quando toccavi i, come si chiamano, gli oggetti digitali, faceva sentire che fossero esistenti. Quindi era un prodotto per virtual reality. Per virtual reality, ho cominciato con virtual reality. Perché era il momento del hype virtual reality, nel 2016, nel 2017, guarda un po' le fonde. Oculus. E' divertente perché quando eravamo nel 2017 eravamo a Silicon Valley virtual reality, eravamo noi, Oculus, HTC, un paio di altre aziende e basta. C'era Palmer Lucky lì facendo il show. C'era Palmer Lucky. Cercare ci sono, e c'eravamo solo noi, i nostri prototipini stampati 3D. E' proprio divertente, andiamo a finire niente che vedere con oggi. Vabbè, non in caso. Avete quel lavoro lì. Portiamo il prodotto sul mercato, andiamo a capire poi cosa fai per il prodotto, vai a cercare di use case che puoi andare a risolvere. Perché è un prodotto molto bottom up. E ci rendiamo conto che gli use case che possiamo risolvere sono per la formazione professionale, virtualizzata, per la maintenance, per l'elettricità, tutto quello che è alto rischio. Quindi low voltage, medium voltage, maintenance, tutto quello che porta... Sì, l'ho visto in qualche multinazionale tipico tecnico di manutenzione che entra e deve fare il corso. Eh, lì era il meglio per mettergli un Oculus. Bravo. Nel 2016 eravamo i primi a farlo e noi eravamo i primi al mondo a farlo con l'Aptics, proprio by far, con questo tipo di light virtual reality, perché poi c'era tutta la parte aerospace che utilizzava gli esoscaletti grossi. Sì. Quindi, siamo arrivati lì. Il problema cos'è? Semplice. Noi stavamo facendo un giro al fari. Noi avevamo formato un bel contratto con Schneider Electric che gli davamo dei sistemi di formazione che loro vendevano ai loro clienti. Tutto il mondo. Bel contratto, venuto la botta di 10.000 euro. Perché la Schneider ha tutta questa training academy. Sì, 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 era per la training academy. Questo business qua, sì. E gliel'avevamo fatta e noi facevamo delle marginalità folli su queste cose. Marginalità folli. E' eccezionale. E abbiamo detto, buono, andiamo a scalare in questa direzione, andiamo a fare il business. Qual è il problema? È che uno cosa, tu ti guardi e dici, ma io voglio rifare queste bichette qua tutta la vita. Perché poi l'azienda ha 10 anni a farle. E dici, ma frega, un cavolo di fare virtual reality, diciamo, training virtual reality. Una roba, una roba francese, uno, non ho studiato 20 anni, però troppo. E no, d'altra parte, tutti i progetti, è un sistema che cresce, difficile distribuire, molto specifico ad ogni industria, delle customizzazioni molto grosse. E quindi devi fare molto più consulting che altro. Ok? Non diventa un sistema, un prodotto che tu puoi scalare. Ma tu vendevi il prodotto, cioè il guanto? Io vendevo la scatoletta per fare la formazione con dentro il software di formazione, il casco, i dispositivi e la licenza di utilizzo. Io vedevo tutto. C'è un integratore. Quindi anche il casco era vostro? No, il casco lo compravo, lo rivendevo. Ok, era esterno. Però glielo assemblavo, glielo testavo, c'è tutto il lavoretto. Quindi è un lavoro che se lo metti a scale, è un lavoro molto complesso. C'è la supply chain, c'è dei costi di inventory, c'è dei costi di distribuzione, c'è dei costi di maintenance, la garanzia. Insomma è un lavoro complesso. Non ne faccio fare. Ottima marginalità, però non stai in piedi. E portava a dover fare cosa? Molto hardware proprietario. Sviluppare una seconda versione del dispositivo che abbiamo fatto. gestire la supply chain dalla Z e sul parametro di contenuto. E' un lavoro di Accenture più un lavoro di OIM, che è un lavoro di ingegneria del dispositivo. Una startup. Cioè Schneider che input ti dava per fare un corso? Cioè per capire. No, andiamo col video. Parlavamo con il subject matter expert. Avevamo il powerpoint con tutte le interazioni. Ci davano tutti 3D. Ci dava tutto il CAD 3D dei dispositivi. No, no, il lavoro abbia fatto un lavoretto molto bello. È molto molto bello. Ci sono ancora in video di giro. No, il lavoro è fatto bene. Però come fai a scalare questa roba? Non scali. E a quel punto lì cominciano poi anche i casini tra co-founder, no? Perché? Perché tensione, qualità del lavoro, visioni diverse, lavoravamo moltano, ma cominciavamo a avere un bambino, un casino. E poi eravamo relativamente giovani, quindi i soldi ce n'erano pochi. Perché ci sono stati pochi soldi con il mercato in cui eravamo. Due, è difficile scalare. Tre, bisogna rifare l'hardware. L'hardware non funziona mai perché si spacca, quindi di chi è colpa. E terzo, dopo un po', cioè, o lo fai o non lo fai. Sì, sì. Capito? Quindi è il casino. Quindi siamo arrivati a due giorni dalla bancarotta. 2019, ho licenziato i miei due co-founder, che lavoravano sull'hardware, tutti e due. Ho preso un piccolo payout. E il 2019, prima, nel 2018, sapevo già che andavamo a sbattere contro il muro. Quindi avevo sottomesso due progetti di ricerca e sviluppo allo Stato francese per far cosa? Una cosa che ci ha insegnato questo lavoro qua, con Snyder e cose del genere, è che, io non avendolo già fatto in un'altra start-up prima, durante il mio dottorato prima, è che ogni volta che devi sviluppare un sistema, devi rifarlo da zero. Mi ha detto, scusa una cosa, ma se io questo problema qua l'ho avuto tre volte, che ogni volta che c'è una tecnologia diversa, devi rifare tutto il sistema, è molto probabile che abbiano tutti quanti lo stesso problema. Che è, c'è uno stack tecnologico per fare l'Haptics, e non è generico, è specifico. E quindi, a quel punto lì, nel 2017, ho scritto progetto, cominciato, Hai visto l'opportunità dell'interfaccia. Bravo, allora perché non vado a sviluppare le cose al contrario, no, bottom-up, top-down? Vado a sviluppare, prima, un linguaggio di encoding generico, poi vado a prendere la mia value chain e lo costruisco da sopra e sotto, fino a interfacciarmi con i dispositivi, che non era in un modo astratto. Questo progetto l'abbiamo vinto, ed era specificamente il progetto per scrivere gli standard dell'Haptics. Se l'abbiamo scritto, andiamo a fare gli standard dell'Haptics. E abbiamo cominciato a sviluppare la tecnologia, hanno fatto 5 o 6 interazioni, senza mai fare un euro di giro d'affari. Mai voluto licenziare, e mai potuto licenziare. Scusa, i fondi erano dello Stato francese? Stato francese, un po' di VC, Stato francese, banche. E i VC premevano, comunque entravano. I VC non avevano mai capito niente di quello che facessero. Deep tech, dicevano. Pura deep tech. We trust you. Deep tech, di star, non c'è niente. Partiti da niente. E quindi, il 2017 e il 2018 si comincia a sviluppare, si sviluppa, 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 perché noi partavamo da extended reality, quindi avevamo l'use case con tanti attuatori, tante percezioni, un pari casini, ma non mi è cominciato a sviluppare quando l'app tech engine di Apple non esisteva. L'abbiamo iniziato prima. E, più o meno, sì, un po' prima. Anche quando Apple l'aveva fatto, le API non erano esposte, quindi tu non sapevi come funzionasse. Quindi abbiamo fatto una roba un po' in parallela. E l'appunto di svolta è venuto il 2021, l'anno scorso, quando la call per la standardizzazione di Apple è riuscita. Ok? Lì, ho letto ai miei impiegati, adesso la valla spacca. Quindi adesso ci ferma tutto, l'unica cosa che dobbiamo fare è vincere questa call. Punto. Noi dobbiamo andare a sviluppare, a prendere la nostra tecnologia, a fare in modo che rispetti questa necessità e una call competitiva, perché c'era poi le performance dopo, e dobbiamo andare a spaccare tutto. E su messi sotto abbiamo vinto a noi questa call. Quindi da lì ho cambiato tutto, perché da lì poi avevo tre offerte di acquisto sul tavolo. Perché? Perché interessa a tutti avere qualcuno che ha le mani in pasta degli standard. E abbiamo detto appunto che hai venduto quest'anno. Sì. Il processo, diciamo, dall'inizio alla finalizzazione, è un processo di alcuni mesi, svariati mesi, immagino con in mezzo un protocollo. Qualche mese che sembrano cinque anni. Ok, centinaia di documenti da guardare con legal. Ma poi il problema mio è che ero solo, sono sempre stato un po' da solo, alla fine. E avevi consulenti, immagino? Sì, sì, chiaro, sì, consulenti, va bene. Però alla fine dei conti sei te che fai il lavoro, che è solo. Sì, va bene, i legali sì sono molto bravi, le becca da fare sono eccezionali. Però alla fine dei conti sei te che vendi l'azienda, è il CEO che vende. E quanti eravate, diciamo, in tutto nell'azienda? Dieci, una decina. Abbiamo arrivato in un massimo di 17-20 quando avevamo l'hardware e il software. Poi io, con il Covid, il Covid mi ha portato il giro di affari da 200.000 euro all'anno zero. Zerato. Eh beh, con la distribuzione di Snyder, cosa fai? Fai il Covid? Si muovono più i venditori. Cosa vai a vendere? La virtual reality alla gente. Col touch che non puoi mettere su, non puoi, c'è la gente che si metteva i guanti per far tutto. Il giro di affari è morto. Quindi mi sono trovato col Covid a dover ristrutturare completamente l'azienda, prendere un sacco di debito. Puoi immaginare perché prendi i prestiti nelle banche e poi devi darli indietro. E a dover distruggere il mio giro di affari, portarlo a zero. Quindi ho dovuto fare uno shrinking, refocus. E poi ho la vinci e la perdi sugli standard. Dato che ho la vinci e la perdi, effettivamente l'abbiamo vinta. e a quel punto di vista è più facile avere dei bridge loan per l'azienda perché avevi delle offerte in interesse d'acquisto, erano già esposte con noi, quindi o ci facevano saltare o ci supportavano. Per esempio le banche, quando tu hai un debito con una banca e lo vuoi estendere, ti servono più soldi e tu per esempio puoi avere anche avuto una vittoria nel tuo campo a livello di standard. Cosa ne capiscono le banche? Cioè come si fa a far arrivare questo messaggio a una banca, per esempio? No, non ce la fai. Quello che devi portare, l'unica cosa che conta è in che modo la banca può recuperare il suo investimento e come fa a fare dei rischi. È meno rischioso darti più soldi perché l'opportunità che gli metti davanti è un'opportunità che possa fargli rientrare nel loro capitale o è più facile, il loro profilo di rischio è più facile che perdano i soldi che ce ne vanno. Interessante, è raccontato nel Covid che tutti i soldi delle banche ci davano erano garantiti allo stato francese fino al 90%. Il loro profilo di rischio è relativamente ridotto. E la cosa interessante quando fai Deep Tech, in Francia è così, tutti i prestiti delle banche sono garantiti dello Stato. Quindi le banche hanno poco rischio, perché non ti daranno mai dei soldi le banche, non puoi dimostrare di due affari. Lo so, mi suona come qualcosa che non abbiamo in Italia questo. No, c'è stato il Covid che hanno fatto questo lavoro, cominciano a fare, ma il problema è che sono per sviluppare un ecosistema di start-up ci vuole 25-30 anni, perché fai il primo giro con il seed, con il pre-seed che hanno pochi soldi, che c'è qualche VCV che bisogna mettere i soldi. Il fatto è che i venture capital, gli squali bravi, riescono a fare dei ritorni su investimento dai 13, 15, 20% all'anno. o anche di più, quelli bravi. Il fatto è che questi soldi non sono i loro, sono dati dai limited partners, i limited partners sono fondi dei fondi che mettono i soldi, sono le assicurazioni, le banche, lo Stato. Quello che succede è che cosa fanno? Ti danno i primi soldi per vedere se può funzionare, però un fondo di investimento venture capital si mette 7 anni, 7-10 anni a ritornare i soldi. e capisci se comincia a diventare remunerativo 3-5 anni dopo il primo. Quindi c'hai il primo, aspetti 5 anni, vedi quelli bravi e non bravi, quelli bravi e non bravi metti però 100 su 20 milioni nel primo fondo per fare investimenti che fai una decina di investimenti iniziali, va bene. Dopo 5 anni poi ti rendi su uno da 100, ok? Bene, fa bene, 100 si fai i secondi giri da 5-10 e dopo ancora 5 anni fai un giro da 500 o a miliardo che sono quelli che ti servono per portare i satispei, i satispei italiani che sono pagati di soldi, non hanno tirato su soldi italiani perché non ci sono i soldi. Quindi c'hai almeno 15 anni per tirare sui fondi più le... Cioè che l'unicorno italiano è fatto comunque con fondi stranieri. Eh certo, per forza, non ci sono. E quindi in Francia lo puoi fare perché l'ho iniziato con Macron ancora 25 anni fa il Macron che ha cominciato questa baracca qua quando era presidente, quando era ministro dell'economia o almeno intorno a quegli anni hanno riformato la banca di... la cassa di depositi e prestiti francesi che è la banca di Francia l'hanno riformata completamente per andare a investire nel start-up. E poi vorrei quindi diciamo effettivamente tu hai trovato sei a Parigi, no? Sì. Hai trovato un terreno fertile ma in generale tu dici non solo nella tua industria cioè è un buon paese per fare start-up. Ciao, guarda le statistiche il miglior paese in Europa e il costo della ricerca e sviluppo qui è il più basso in tutta Europa perché c'erano un sacco di aiuti cioè loro hanno puntato sulle start-up tecnologiche perché la ricerca i francesi in ricerca sono bravi il CNRS è eccezionale e quindi loro hanno molto puntato sulla ricerca di base sono molto bravi a fare queste cose e cercano di sviluppare il differenziale che è il differenziale a lungo termine nella tecnologia e sono anche bravi a fare retail quindi sono tante aziende retail però c'hanno tanta AI c'hanno tante queste cose francese molto tecnici e tu che ci hai passato alcuni anni nel mondo della virtual reality la metaverso diciamo come molto gettonato in questi giorni in queste settimane la tua opinione come la vedi da qua da qua cinque anni effettivamente un'industria quale virtual reality o metaverso metaverso mworld allora interessante fate una chiesta chiaramente la mia opinione non ne so niente per me metaverso è il fatto di unire tre cose che non c'entrano niente una con l'altra una è il il senso di personalità in modo digitale che l'avatar è quello che tu sei e poterselo portare attraverso diversi tipi di applicazioni due è l'immersione con la VR che non ha niente a che vedere con l'avatar ok e il terzo è il concetto di ownership degli asset che è quello che i crypto spingono ok web3 però la realtà è che non ha niente a che vedere uno con l'altro questi tre uno è il fatto che tu avatar puoi portare in giro uno è il fatto di soldi che si li puoi portare da una piattaforma all'altra e il terzo è l'immersività il problema è che gli incentivi delle aziende non sono lì perché un gain come Fortnite dovrebbe accettare fondi da un Roblox non ha nessun incentivo economico perché è meglio che tu li spenda lì i soldi è come le grandi nazioni giusto nessuno vuole rinunciare se perdi controllo della tua moneta sei un po' rovinato quello è uno secondo quello dell'avatar quello lo vedo abbastanza ragionevole che tu puoi portarti in giro te stesso in diversi piattaforme digitali non vedo perché no quindi diciamo un social network digitale quello che era second life 20 anni fa il terzo la realtà virtuale niente a che fare con il resto la realtà virtuale è un problema tecnologico che non sarà facile risolvere perché la realtà virtuale come oggi è una console di gioco e come console di gioco ha un mercato di nicchia che combatte con la playstation il problema è la realtà virtuale è il problema della socialità la gente gioca la playstation con gli amici a casa sul divano con le birre con la realtà virtuale non puoi fare se è da solo a casa tua hai bisogno pure di tanto spazio una nicchia penso rimarrà una nicchia infatti l'utilizzo del casco di realtà virtuale dopo sei mesi che l'hai comprato drammaticamente scende c'è poca retenzione ma perché non è un'esperienza sociale infatti però non potrebbe diventarlo attingo la mia esperienza da breve da gamer durante la pandemia cioè comunque quando giocavo a Apex Legends anch'io ero da solo nella mia stanzetta però poi ti collegavi e avevi il gruppo dei tuoi amici quindi non ci potrebbe essere un equivalente in cui ti colleghi col casco e ti trovi con i tuoi amici col casco e vai in giro e fai quello che devi fare nel videogioco sicuramente però me l'hai detto tu è nella pandemia giusto adesso se ti vai anche il tuo socio vuoi dire vieni a casa a giocare a PES e ci beviamo due birre questo use case non ce l'hai e non sto dicendo che non esiste più solo che esiste semplicemente gli manca un pezzo di esperienza rispetto ad altre esperienze di videogames quindi perdi un po' di appeal rispetto ad altre e sicuramente c'è dei use case buoni quello che mi stai dicendo e sicuramente lo puoi sopportare però questa experience a casa tua con i tuoi amici di 15 anni che va a scuola insieme non ce l'hai forse questo è un problema ma magari la nuova generazione cambia sai che le cose cambiano abbastanza spesso il secondo problema è un problema tecnologico è che il vero boom sarà quando metti gli occhialetti come quelli che hai tu oggi e hai le proiezioni all'interno degli occhi in una roba veramente semplice ti muovi e queste cose si muovono crescono appiccicate e muovi quello è figo Google Glasses no? era di Google era di Facebook quello è figo il problema di quella roba lì è che non esiste la tecnologia oggi Tim Cook lo dice a tutti tutti gli eventi noi stiamo davanti a quello ma il problema della tecnologia non esiste quindi probabilmente sarà molto la nicchia gaming quindi il prodotto che tu ti immagini cioè qual è che diciamo io vado in giro e comincio a vedere voci comincio a vedere scritte comincio a vedere numeri che non esistono vabbè c'è uno navigation eccellente in giro ti dice dove andare eccellente due riconoscimento di persone chi è questa persona vedi la gente business vedi questa persona ti dice chi è il suo link è di inchiate e vai quello è eccellente tre il filming il contenuto puoi guardare per andare a filmare quello è eccellente per tantissimi use case ma cominciano ad esserci sì sì in effetti io vado per strada che vedi metà delle persone compreso me a volte con il cellulare in mano è difficile pensare che tra vent'anni non lo so sia vent'anni o dieci o quaranta esatto difficile pensare che questo cellulare non verrà incorporato in quella cosa e forse sì la cosa più normale è pensare a un paio di occhiali poi c'è il problema dell'interazione che non è banale come interagisci la gente dice con la voce per me è una gran stupidata perché il problema della voce è che è assolutamente non reliable e ha bisogno dei server per funzionare sarà sicuramente tramite dita per quello che facebook sta investendo sulla braccialetto che traccia le mani tramite l'img e avrà il feedback haptic e le tue stesse dita cioè non che devi toccare qualcosa no ti auto tocchi con un movimento delle mani tu posso selezionare però con tutti i problemi di interfaccia come tutti i problemi di interfaccia ci sarà il problema di insegnarla a gente ad utilizzarla ok ed è complesso a dire poco perché devi rinsegnare tutto da zero l'iphone funzionato perché perché c'era i bottoni i bottoni virtualizzati ma erano bottoni tu gli sanno dare i bottoni immagina insegnare a tua nonna a utilizzare il mouse ci metti una vita per quello che usano gli ipad gli nonni giusto perché ci puoi schiacciare le cose quindi delle grosse aziende americane comunque apple c'è dentro diciamo l'hai menzionata prima facebook c'è dentro la grande microsoft è uscita ha smesso ho l'enso stanno quasi ammazzando e ha fatto il deal facebook ma poi apple probabilmente lo venderà come sistema per i creator sarà una cosa molto macbook pro è un prodotto per sviluppatori creatori che probabilmente sarà per designer per questo genere di cose eric volevo farti un'ultima domanda dopo che hai venduto e hai iniziato a lavorare alla rasa sei rimasto diciamo quanto è cambiato se posso chiederti il modo in cui lavori il team quanto è difficile quanto è difficile per uno che è abituato a lavorare in una startup a una startup diciamo integrarsi in una multinazionale è stato meno stress o è stato più stress perché devi imparare tutte le procedure diciamo della corporate le procedure non le ho ancora imparate la cosa interessante è che mi hanno lasciato general manager da mia business unit mi lascio un po' quello che mi pare ok quindi ti lascio diciamo abbastanza carta bianca allora il problema è rendere conto della strategia però per fortuna il mio capo e riporto il dp e anche il ceo c'è un'ottima comunicazione per ora mi lasciano stare perché sono sei mesi poi vedremo come è cambiato il mio lavoro il mio problema principale era come pagare gli stipendi adesso non ho più questo problema perlomeno che mi cambia relativamente il peso in meno adesso il problema è come andare veloce il problema è come andare veloce come faccio a accelerare immagino come sfruttare anche tutti i prodotti che avete in azienda perché se vi siete integrati sarà per creare una sinergia esatto sì quello è sicuramente però siamo lontani da essere integrati ancora per sei mesi e niente cominciamo adesso a fare qualcosa ci vedranno due anni due o tre anni iniziare cominciamo adesso a integrare le tecnologie nei prodotti che vanno a venire tra due anni in fase di ingegneria stiamo cercando di capire come possiamo fare retrofit di cose che esistono con cose che abbiamo quindi per assurdo stiamo utilizzando tecnologie di sms capendo come posso mettere un aptX in un report di un usb controller come faccio a infilarci dentro in 10 byte dell'aptX che ne erano rivisti di essere utilizzati ci sono dei challenge che sono dei challenge di integrazione anche culturali molto differenti cosa interessante è che i Razer sono degli start-up pari anche loro ok sono c'è la mentalità diciamo innovativa di creazione di provare poi sono tutti gamers tutti i miei ragazzi sono gamers quindi è molto semplice un mondo creativo sì grazie mille è stata veramente una discussione interessante spero che ti valga qualcosa beh guarda fino probabilmente qualche giorno fa non sapevo neanche cosa fosse la tecnologia aptX ora diciamo almeno ho una vacca idea di dove stiamo andando super interessante grazie per il tuo tempo e in bocca al lupo grazie 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 a tutti